Mi sono arrabbiata di quelli che vengono apparentemente in buona fede, invece come dire, ti dicono calunnie su altre persone fiche, ti vogliono soltanto portare. Bene, amen. Cosa devo dire? Io voglio andare la, 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 la. Non voglio stare qua con tutti quelli che ci provano un gusto a mettermi in crisi. Non ho voglia più di parlare. Voglio solo e soltanto ascoltare il mare. Voglio andare la, 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 la. In quel posto in cui, in cui, in cui io starò bene la, la, la. Non voglio stare qua, 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 qua. Andate a fanculo, qua, 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 qua. Voi siete solo voi, siete solo voi, siete solo voi. A fare così, in, in, là.